bella tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e oggi episodio 97 signori ci avviciniamo sempre più all'episodio numero 100 di questa serie signori allora prima di partire il video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale vi ricordo di iscrivervi al canale che giustamente abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e io mi sto impegnando al massimo il grosso dovete farlo voi basta semplicemente cliccare sul pulsantino per iscrivervi al canale e soprattutto se volete vi va di lasciare anche un bel like e qualche commentino tecnico tattico questo fa sempre piacere al sottoscritto signori cosa facciamo nel video di oggi come avete capito più o meno dal dal titolo a meno spero di aver messo un titolo simpatico andremo a cercare le le foreste le foreste le fortezze del void signori andremo a esplorare quella zona di là qua ci sono le nostre bellissime rane che adesso non vedo dove cazzarola sono ma sono qua dentro i nostri bellissimi gerini che abbiamo fatto riprodurre nello scorso video ci servono due nomi per queste rane ma soprattutto ci servono anche due name tag quindi vedremo un attimino di riuscire a ottenere tutto le nostre tartarughe invece non ne vogliono sapere niente di crescere anche se le uova si stanno più o meno iniziano sempre di più a schiudere anche lì ci servono due nomi signori dovremmo anche andare a prendere degli altri pesci per il nostro acquario perché è un po scarso un po scarso detto signori allora io c'ho tutto quello che mi può servire per un esplorazione abbiamo le armi abbiamo l'acqua abbiamo il cibo abbiamo le carote d'oro abbiamo frecce infinite e dei blocchi della costruzione ma comunque prenderemo anche quelli nel nel land non mi ricordo come siano i blocchi del land quelli gialli che sicuramente ce ne serve anche qualcuno da portare a casa ci portiamo anche quattro render perché ci possono salvare la vita anzi ne mettiamo direttamente qui così non sbagliamo sicuramente detto questo signori io faccio la strada per andare nel void e ci vediamo quando siamo nel portale in quella dimensione signori in quella dimensione così vi elimino tutto questo viaggio inutile e iniziamo con l'esplorazione del void signori ok signori siamo arrivati nel void io ho preso qualche ender pearl mentre eravamo nel land praticamente in modo tale che una cosa qualsiasi potremmo cercare di salvarci quantomeno con le collende per mi sono dimenticato di portarmi le palle da neve come mi aveva consigliato come come mi aveva consigliato il mio amico sul nei commenti nello scorso video per fare le prove a vedere le distanze provare con le collende per non l'ho fatto messo mi sono dimenticata palle neve chiedo scusa chiedo scusa allora signori vi ho tagliato tutta la parte del video in cui andavamo a cercare nel senso raggiungevamo questa zona di qua che erano state sentendo una grado di scatola anche se noi sono stato sono fatto bravo sono fatto bravo sopra di niente come qual è la strada per per arrivare velocemente al portale nel nether che ci porta diciamo alla fortezza alla fortezza e quindi in questa direzione qua allora sto recuperando un poco di questi blocchi che sicuramente ci serviranno per fare i ponti perché senza i ponti non abbiamo dove andare dove andare abbiamo un paio di materiali a disposizione per la costruzione speriamo allora io spero signori in un massimo due video di riuscire a recuperare a trovare la fortezza ea recuperare il bel bottino l'obiettivo sarebbe due video per cercare di la fortezza e conquistarla e un terzo per tornare a casa anche perché già questo è il 97esimo episodio il centesimo dobbiamo registrare tutta totalmente altre cose allora noi l'altra volta avevamo esplorato più o meno questo isolotto grande che abbiamo davanti a noi e che dirvi e a distanza non avevamo visto niente di interessante io ho preso le coordinate del nostro flash of flash o sì del nostro fascio di luce sperando che magari ci possa essere utile questi li raccogliamo non dobbiamo rischiare di far però una cosa per farne un'altra siamo venuti alla ricerca della fortezza è quella dobbiamo trovare e conquistarla abbiamo massimo due episodi signori perché voi potrei sclerare male e volermene tornare a casa violentemente quindi allora l'altra volta eravamo arrivati di qua se non sbaglio e ce l'avamo fermati e qui sono dei coros fruit possono sempre tornare utili questo ponte non l'abbiamo fatto noi ma lo potremmo sfruttare oserei dire di sì oserei dire di sì sfruttiamo quello che la natura ci dà per costruire qualcosa di più pratico allora a che altezza siamo di sto ponte penso questa altezza di qua iniziamo piano piano signori la costruzione dei ponti per cercare la nostra fortezza e farò dettagli a questo video non penso non penso voglio condividere con voi tutta questa esperienza nel cercare le nel cercare mettiamo una torcia così quando noi ne abbiamo dei riferimenti nel cercare la fortezza signori perché il bello è questo il bello del gioco a minecraft è anche questo vivere assieme le esperienze e non fare tanti dettagli per tanti tagli per essere veloci e completare i vari obiettivi e poi non ti resta nulla signori invece così quanto meno ci rimane questa grandissima rottura di scatole allora io c'è anche messa 6 è vero che ogni tanto potremmo dargli una botta magari allungandoli per cercare di vedere più in profondità però per ora camminiamo signori però sono sono fiducioso del mio del mio istinto sono fiducioso del mio istinto il mio istinto mi dice di andare da questa parte io metto torce per un riferimento magari nel tentativo di tornare a casa magari riusciamo avere un attimino più forte più più facilità nel tornare a casa se andiamo in questa direzione ma in questa direzione io non vedo assolutamente una cippa di nulla vedo degli isolotti in profondità no mamma mia da questa parte non c'è proprio niente signori il vuoto totale ok non andiamo più in questa direzione che cazzo è finito il void praticamente siamo arrivati alla fine del void mi sembra un po' esagerato mi sembra un tantino esagerato qui non abbiamo isole volanti fortezze o cazzarole varie no decisamente no in quella direzione cosa abbiamo degli altri isolotti piccolini volanti che ci sembrano abbastanza inutili non vedo grosse isole per la quale non vedo grossi isole per la quale signori lì ci uniamo noi sì arriviamo a questo spigolo di qua che proprio niente è molto vicino alla zona della nostra principale isola ok ok là c'è una bella isola là c'è un bel isolotto che potremmo andare a esplorare lì potremmo arrivarci lì potremmo arrivarci noi arriviamo da la penso se non ricordo male no sì forse sì sì là c'è il nostro ponte possiamo andare a esplorare quello perché vediamo se non in quella direzione no niente 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 non non facciamoci troppe domande arriviamo lì e poi tagliamo verso verso quell'isola volante non è utile che facciamo 70 mila giri perché sennò ci perdiamo solo di casa e la cosa importante è che non mi laghi male il computer e che non si stacchi il pulsante shift perché se cadiamo nel voto mi sa che prossima settimana potrebbe iniziare una nuova serie da zero brutto da dire ma sì signori se dovessimo cadere adesso nel voto sarebbe proprio la 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 pazzia più totale dov'è quell'isolotto porca miseria lo sto raggiungendo sì ok quella è la nostra isola noi stiamo raggiungendo quella per spostarci di là ok ha senso come cosa forse no però è l'unica isola grande che abbiamo vicino a casa nostra quindi dobbiamo dobbiamo cercare delle isole grandi le isolette piccole non ci portano a niente quindi dobbiamo cercare di di non finire blocchi quantomeno porca miseria pensavo fosse molto più vicino questa piccolina e invece no e invece no va bene va bene va bene dovremo fare un attimo un rifornimento di questi di questi blocchi di dell'end del void come cazzo la seguiamo la seguiamo ma un pochino di questi blocchi dobbiamo recuperarli dov'è quella cazzo ho avuto un attimo un'impressione invece eravamo noi leggermente più alti ok ok possiamo scendere di uno in modo tale che riesco a conquistare qualche altro blocco in modo tale che arriviamo sull'isolone grande diciamo a questo punto perché non ci andavi dalla tua isola principale questo è anche un ragionamento ho avuto paura ho visto questo da invece no invece siamo stati bravi abbiamo avuto fortuna abbiamo avuto fortuna ok questi blocchi penso che riusciamo ad arrivare al nostro obiettivo che è questo isolotto di qua va bene continuiamo a costruire ho sentito uno strano rumore sottofondo come una sorta di alitata di un drago che non capisco che cazzarola fosse però va bene non facciamoci domande continuiamo a costruire ponti e vediamo vediamo signori vabbè dai faccio faccio un primo taglio faccio un primo taglio vediamo vediamo dove vediamo aspettate esploriamo assieme questa isola vediamo se magari in quella direzione si ci si apre qualcosa ok dai qualcosa ci si sta aprendo un altro no 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 ma perché ma perché maledetti ma da quando è che vi avrei guardato in faccia illuminate mi maledetti che non siete a ehi 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 state al vostro posto ho detto di salto posto mamma mia quant'è che li ho guardati in faccia maledetti enderman mi hanno fatto via un corpo di sale mette una torcia di qui io stavo a guardare lì l'isola che si che mi stanno che stanno spuntando davanti i nostri occhi e l'enderman ci attaccano ma mi sembra normale questa cosa non è per niente corretta non è assolutamente per niente corretta quell'isola lo abbiamo conosciamo non lo so noi siamo arrivati qui stiamo esplorando questa zona di qui vediamo un attimino tante altre isole volanti piccoline questa abbastanza grande me la mette una fortezza qui dai fammi fammi comparire una fortezza dal nulla bastardo di un videogioco dai dai niente fortezza nemmeno qui signori è bello che non vedo nemmeno isole in prossimità non vedo nemmeno altre isole in prossimità è bella e belle norma questa porca miseria porca miseria se belle norme ma non c'è assolutamente niente il voto più totale anche in quest'isola ma porca miseria va bene signori faccio un taglio continua l'esplorazione un poco da solo vediamo se se allargo un po che c'è anche vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante come cazzo la c'è arrivo io la sotto va bene signori piccolo taglio vediamo cosa cosa riesco a trovare signori aumentando i cian che l'abbiamo trovata guardate la ce n'è una dritta dritta dove in questa direzione la cena non so se c'è la barca questo non ve lo so dire ma dobbiamo raggiungere quella cazzarola di isola quindi facciamo un ponte infinito da qua alla sotto signori sperando che prima aspettate riporto i cian che ha un qualcosa di gestibile per il nostro computer sappiamo la direzione in cui dobbiamo andare non abbiamo paura di andarci e quindi iniziamo con il tastino shift e iniziamo a piazzare tutti questi blocchi di quadri andate tutti questi blocchi e andiamo in quella direzione signori vi taglio questa parte di tutti questi blocchi infiniti e ci vediamo appena raggiungo l'isola a meno che non cado in maniera violenta su qualche per qualche imprevisto mancamento di pulsanti di shift e cose varie ma ci vediamo appena raggiungo quell'isola non so se c'è la barca signori da questa distanza non sono riuscito a metterlo a fuoco ma voglio mantenere un attimino anche il segreto la speranza che ci sia una barca perché se non c'è la barca dovremo ispezioneremo questa fortezza che stiamo trovando senza ben dubbio che dobbiamo recuperare gli shulker e poi continueremo la nostra avventura a cercare qualche altra fortezza fin quando non troviamo la barca anche perché mi sa che comunque siamo abbastanza distanti anche da casa quindi da casa diciamo dal portale dal fascio di luce signori quindi diciamo che dobbiamo no ormai siamo siamo persi nel siamo persi nel void signori quindi dobbiamo dobbiamo per forza tornare a casa con l'elitra non possiamo rimandare troppe volte queste di questi questi episodi siamo qui le porteremo a casa non come è successo con le teste di shulker che abbiamo abbandonato quell'avventura e siamo rimasti senza testa di shulker purtroppo sì quindi un giorno dovremo tornare anche nella fortezza per cercare testa di shulker ma io sto parlando inutilmente rapido taglio signori ci vediamo quando raggiungo l'isola ok signori abbiamo raggiunto l'isola la fortezza sta prendendo forma ma io non vedo nessuna barca porca di una paletta ambriaca signori niente fortezza trovata ma nessuna barca per noi a meno che non ce n'è qualcuna volante nelle vicinanze no niente signori una fortezza piccolina che non ci regala nessuna gioia ma porca ma sì è una di quelle piccoline signori la esploriamo io direi di sì io direi di sì signori perché è l'unica speranza che abbiamo intanto di recuperare qualche shulker e qualche qualche drop qualche drop particolare allora facciamo un'ultima cosa prima di salutarci perché ovviamente la esploriamo domani questa piccolina aumentiamo un attimo i chunk vediamo se per caso ne becchiamo un'altra in lontananza così a botta di culo vediamo signori vediamo se abbiamo un po di botte da culo botta di culo che non abbiamo signori niente altre fortezze per noi ma anche quello da sotto non sia una fortezza proviamo arrivare qui e massimo a massima distanza vogliamo provare a metterli tutti li mettiamo tutti signori se esplode il computer esplode il computer se esplode il computer esplode il computer 31 chunk signori 31 chunk sta per esplodere il computer se si sta decisamente per esplodere il computer ma vediamo se siamo fortunati in direzioni lontane non vedo nulla di interessante completamente completamente porca miseria sto in silenzio perché dico speravo di essere stato fortunato aver trovato la finalmente la fortezza che cercavamo bastava che mi mettesse la barca il maledetto e invece no non ci ha voluto bene va bene signori però ho detto questo una fortezza abbiamo trovata trovando una fortezza già possiamo fare di shulker che non è brutta come cosa non è non è per niente brutta come cosa quindi riporto ancora una volta i shank a qualcosa di gestibile non sette mi deve fare sei perfetto detto questo signori io vi ringrazio questo video vi ringrazio per il like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento se non c'è la barca vero no non c'è la barca va bene signori ci vediamo domani per continuare l'avventura nel void bella raga ciao